GORMITI Slegaci brutto pezzo di carbone! Ci hai ingannato! Ci hai detto che ci stavi portando qui per fare un patto per il bene di Gorm! Quelle parole sono sacre tra i gormiti! Beh, non vi ho ingannato del tutto! Vi ho portato qui per fare un patto! Un patto per il bene dell'isola di Gorm! Questo è vero? E ho messo solo un piccolo dettaglio! Non ci interessa! L'intero regno di Gorm verrà a sapere del tuo piano scorretto! Avanti! Abbiamo già dimostrato che il fuoco è l'elemento più debole! Davvero? Quindi è questo che credi? Adesso ti mostrerò chi è il più forte! No! Non puoi farci questo! Questo è il dettaglio di cui parlavo! Ho bisogno di ognuno dei vostri elementi e siccome so che non mi liberate in modo facile li prenderò con le maniere forti! Oh, grande Magor! Antenato del fuoco dei gormiti! Ti invoco qui e ora! Spero che tu mi abbia svegliato dal mio sonno per qualcosa di utile altrimenti ti schiaccerò come un verme! Oggi è un giorno molto importante! Il vincitore di questa sfida diventerà l'ultimo finalista che gareggerà insieme ai migliori concorrenti! Solo loro combatteranno per diventare il nuovo governatore dell'isola di Gorba! Ti senti un po' stanco, amico mio? Non sembra che tu abbia molta energia! Non è molto forte, no! Come dico sempre, amici miei non sottovalutate mai nessuno! Vediamo il gormita più riservato e spietato! Trema terra! E non lasciatevi ingannare dal suo aspetto primaverile! Florus l'avvelenatore è venuto a combattere! Fortunatamente qui non può usare il suo veleno letale! Aspettate un attimo! Beh, io sono Martello, il predatore! Vengo dalla tribù del mare, so nuotare molto velocemente, eccetera! Ma sono l'unico che ha notato che manca qualcuno! Aspettavate mi? Aspettavate mi? GORBIDI! Grazie a tutti.